buongiorno cara prego prego vieni pure dimmi tutto ah sì hai prenotato massaggio al viso rilassante ok guarda controllo subito nel nostro quaderno un secondino allora ore sì tu sei Anna bravissima sei puntualissima cara ok quindi facciamo un bel massaggio rilassante al viso giusto perfetto ok senti tesoro giusto per comodità mi lasci al volo la tua mail anche sì chiocciola gmail.com perfetto e il tuo telefono se ce l'hai se lo sai a memoria ok ok 1 5 ok perfetto grazie mille così poi ti faccio la scheda sei nuova vero immagino immagino ma guarda sono contentissima di di conoscerti e di offrirti il nostro servizio sperando ti possa piacere allora carissima adesso tu sediti su questa poltrona perfetto hai visto che comoda eh sì noi ci teniamo che questa esperienza possa essere gratificante sotto ogni punto di vista ok allora mia cara tu mi pare di capire che sei struccata vero sì bravissima brava 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 bravissima allora giusto per una piccolissima e velocissima passatina ti vado a passare un pochettino di tonico prima di passare all'olio ok esatto vado a prenderti un dischetto lo so che hai già il viso pulito però è giusto per rimuovere un un attimino ancora esatto dopo di che passiamo al massaggio con l'olio esatto come dici non vedevi l'ora di prenderti questo momento per te ma guarda devo dire che hai assolutamente fatto bene ogni tanto ci vuole un momento tutto per noi è vero e si è allora carissima ascolta come tonico vedi questa boccetta piuttosto neutra senza scritte perché è un tonico che facciamo noi giornalmente è assolutamente biologico e questo è un tonico sicuramente appunto come dice la parola tonificante ma piuttosto purificante e al contempo comunque anche calmante quindi molto lenitivo ok si non è troppo aggressivo esatto brava come puoi immaginare lo vado un pochettino a miscelare perché facendolo noi potrebbe aver bisogno di una bella miscelatina ok allora ora lo spruzziamo bene bene eccoci qua ovviamente ho dato un bel po' di spruzzatine in modo da essere a posto ok adesso mia cara rilassati ok chiudi gli occhi e io ti passo un po' questo tonico senti che bello fresco e si è facciamo un po' la fronte le guance le guance l'altra guancia l'altra guancia nasino il mento il mento il mento il mento il mento è eccoci qua tutta bella fresca vero? sì ok adesso possiamo procedere a quello che è il cuore della nostra sessione cioè il massaggio con l'olio anche quest'olio è completamente naturale e visto che tu appunto mi dicevi e in effetti sto vedendo che è proprio così hai la pelle un po' come la mia, un po' mista io ti andrei ad applicare, vedi, questo l'olio di jojoba esatto ho scelto quest'olio perché non è come dogeno per nulla quindi sicuramente non andrà ad appesantirti la pelle ma anzi è uno degli oli più leggeri praticamente che ci sono e ti assicuro che oltre all'estremo senso di idratazione che tu avrai quindi ti assicuro che, come dire, non rimarrà la tua cioè ti sentirai la pelle del viso comunque leggera non quel senso di pesantezza, quel senso di pelle troppo unta ok, esatto, bravissima esatto è bello, vero? il suono dell'olio ok adesso vado a metterne un po' nelle mie manine e poi esatto ok eccoci qua e adesso lasciati tranquillamente trasportare da questo mio massaggino super 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 rilassante nasino ti piace? bene sono contenta mi fa molto molto piacere adesso andiamo un po' nel dettaglio ok? si adesso possiamo questa lato fammi vedere un pochettino cosa c'è qua cosa c'è qua facciamo anche un po' le tempi cosa dici qui si tu rilassati completamente abbandonati questo massaggino brava esatto proprio così ok ok adesso facciamo un pochettino qua così qua facciamo piano piano così potremmo fare sì tu rilassi tutto io non ti preoccupare faccio tutto io qui a fronte ecco qua così così devo non provare con un pochettino tutto vediamo anche come così ti rilassare bene 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 ho un pochettino così ho un pochettino così ho un pochettino la fronte perché bisogna bene 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 esatto esatto bravo così poi andiamo un pochettino giù così così facciamo un pochino le cuocce adesso facciamo un pochettino qua così contorno occhi ti piace? rilassati completamente non pensare a niente lasciati trasportare dalle mie mani questo massaggino rilassati completamente cara facciamo la frutta ancora un pochino e poi le cuocce piano piano tu lasciati andare piano piano con le mie manine sì 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 così piano piano lasciati completamente andare così 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 eccoci qua si è assorbito bene hai visto? hai visto? sì si è già assorbito ti è piaciuto cara? no? beh diciamo che come dire è è molto rilassante è molto rilassante adesso io pulisco un po' le mani e il resto me lo spalmo così allora che dici? ti stavi per addormentare? beh allora siamo riuscite nell'intento del relax dai sì meno male sono davvero contenta fammi vedere qui sei rimasto un pochettino di olio da qualche parte no comunque mi sembra di no sì sì sei tutta bella posta perfetto cara ah vuoi prendere un altro appuntamento? ma certo io ovviamente ne sono solo che felice allora andiamo di là e ti scrivo l'appuntamento per la prossima volta ok? certo cara l'importante è che ti sei trovata bene beh sì se vuoi venire un'altra volta è proprio così benissimo tesoro allora andiamo di là va bene? ok?